I nuovi commissari chiederemo sicuramente la garanzia occupazionale dei posti di lavoro, ma anche la garanzia dei diritti acquisiti. Queste le richieste dei sindacati ai nuovi commissari della Depositi Costieri, che contano di incontrare quanto prima. Le organizzazioni dei lavoratori esprimono ottimismo sui livelli occupazionali e lodano la rapidità delle istituzioni in una vicenda che si presentava esplosiva. Mi permetto però di partire da un principio che vale per la CGL come per i lavoratori, ovvero il principio di legalità. Ci sentiamo di ringraziare le istituzioni perché si sono dimostrate celeri rispetto anche alle richieste d'incontro inoltrate pochi giorni fa. Adesso attendiamo una risposta e un'ulteriore richiesta d'incontro che faremo nei prossimi giorni ai commissari. Questi prossimi passaggi operativi per riprendere l'attività? Beh, diciamo che i lavoratori, ovvero i delegati che sono presenti in azienda con la segreteria della filta in CGL, che è la segreteria di categoria, richiederanno un incontro ai commissari per capire anche quale sarà la gestione nei prossimi giorni, visto che i lavoratori al momento praticamente non svolgevano nessun tipo di attività. C'era il blocco delle estrazioni, per cui garantivano semplicemente la garanzia della salvaguardia degli impianti. Grazie a tutti.